Siamo oggi il 12 di maggio 2009, sui giornali rimbalza la notizia della consegna all'ombra della tessera del movimento indipendentista siciliano, MIS. Il signor Musumeci ha consegnato a Lombardo una tessera onoraria, proprio poco prima delle elezioni europee. Questa notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Sud con una bellissima fotografia a pagina 24. In questa fotografia c'è la di Tascale che dice Presidente della regione Raffaele Lombardo con Salvo Musumeci esponente del MIS, non si capisce bene di quale partito si tratti e che cosa voglia significare. Nel corso dell'articolo la Gazzetta scrive Lombardo galvanizzato da 400 giovani che lo sanno nel quartiere Gazzetta Lombardo galvanizzato dall'ulteriore tessera del MIS, che è un atto di stima verso chi sta attuando l'autonomismo, che va avanti come un rullo compassore. È un atto di stima, dice qua. Ma non spiega assolutamente che cos'è questo MIS, chi è questo signor Salvo Musumeci e che cosa significa questo atto di stima. Qui vediamo una notizia camuffata completamente dalla Gazzetta che sono dei maestri veramente per non fare capire niente quando fanno un articolo. Mettono una bella foto con una bella faccia in primo piano, però poi alla fine il lettore non capisce un bel niente. Quindi tutta questa grande visibilità del MIS che viene in qualche modo a farsi pubblicità del movimento indipendentista, grazie a Lombardo, sulla Gazzetta proprio non risalta. Invece la Sicilia, la Sicilia in prima pagina mette una bella foto di Lombardo che dice non mi fermeranno. Il Presidente della Regione Lombardo replica le accuse lanciate dall'Udc, ma attacca anche il Governo nazionale. La verità è che qualcuno non ama la nostra guerra e gli sprechi. Nessun riferimento a Musumeci. Mentre nella pagina interna, pagina 3, sempre una bellissima foto sempre più grande e zooma sugli occhiali e sui baffoni di Raffaele, la Sicilia, e dice noi stiamo facendo una rivoluzione nella dirascalia. Per quanto riguarda il nostro salvo Musumeci, inizia così l'articolo. Catania, due siparietti leggeri aprono il pesante pomeriggio catanese e il Presidente della Regione Raffaele Lombardo, che convoca una conferenza stampa per documentare la consegna della tessera onoraria del Miss, il movimento indipendentista siciliano, che ha posizioni più integraliste dell'autonomia lombardiana, ma ha scelto di condividere in parte il percorso dell'MPA. E basta. Dopodiché non si parla più di altro. Quindi anche qui non solo non c'è la foto come ha fatto la gazzetta del signor Musumeci, ma si soltanto fa riferimento a questa tessera onoraria del Miss. Tutto il resto dell'articolo è poi dedicato all'Udc e alla possibilità che forse Berlusconi non sia d'accordo per fare un'alleanza con Lombardo. L'articolo finisce così. Ma è proprio sicuro che Berlusconi in questi tempi sia disposto ad aprire alla Sicilia di Lombardo? Non è che il Premier ne ha già abbastanza di una lega al nord che ritrovarsi una lega al sud oltre il 4% e presenta anche in Europa sarebbe troppo? Non esiste. Con Berlusconi c'è un rapporto leale e una barzelletta, questo è il 4%, che vorrebbe negarci, risponde Lombardo. E chi gestirà a questo punto la verifica del governo regionale dopo il voto? Lui, anche se resta sotto il 4% o loro? Io sono il Presidente eletto dal popolo siciliano, vorrei ricordarvi, quando ci metteranno i bastoni tra le ruote per la nomina dei direttori regionali, quando ci mettevano i bastoni tra le ruote ero pronto a sostituire quegli assessori che entravano e uscivano. Nessuno si illuda, non sarà facile fermare questa rivoluzione. Il giornale di Sicilia addirittura buca la notizia completamente, non dice niente, questa è l'edizione di Messina, forse nell'edizione di Palermo o di Catania ci sarà qualcosa, ma nell'edizione regionale, nelle pagine regionali, nazionali, regionale Sicilia non c'è la notizia di Raffaele Lombardo a cui viene consegnata la tessera onoraria da parte del MIS. Ora questo governo Lombardo con questa tessera del MIS sicuramente se ne farà un distintivo, se ne farà un passepartout per dire che la strada verso l'indipendenza è aperta e quindi gli autonomisti non si fermano davanti a nulla.